Ciao ragazzi, come state? Spero tutto tutto benissimo La stagione è nascosta sotto la scrivania perché i bambini, super simpatici, hanno deciso di scoppiare i botti e quindi le si spaventa ed è nascosta qui io la volevo prendere in braccia ma preferisce stare qui sotto quindi niente, starà qui allora, per questo video, ma in realtà per questa stagione autunnale ho pensato di creare appunto una serie di video a tema autunno e penso che ne farò uscire una settimana più o meno so che l'autunno ci è partito da un po', ci ho pensato un po' tardi però vabbè e per il momento ne ho in mente certi tre poi magari ne farò qualcun altro vediamo, non lo so e ad esempio per questo video voglio farvi vedere le cose che ho comprato perché farò una festa a tema Halloween appunto e quindi volevo farvi vedere quello che ho comprato e i prossimi video comunque saranno, cioè di questa saga diciamo saranno a tema autunnali e non Halloween ci tengo a precisarlo perché non sarà tutto di Halloween forse questo sarà l'unico video a tema Halloween o forse ce ne saranno due ma non di più allora, iniziamo come vi ho detto farò una festa a casa mia con i miei amici quindi ho preso tutto l'occorrente allora questa è la tovaglia nera ho altre decorazioni ma che non vi mostro perché in realtà le ho già cioè non sono niente di nuovo quindi non le ho nel sacchetto di cosa appena comprate poi ho preso questo che è una bara in cui penso di mettere le caramelle c'era anche viola ma l'ho preferito arancione poi ho preso questo per le patatine anche questo c'era di diversi colori ma l'ho preferito arancione poi ho preso i tovaglioli neri poi i piatti arancioni questi sono riciclabili al 100% voglio farvi vedere Joy perché mi fa morire guardate mi sta giudicando come ogni volta che faccio i video comunque poi ho preso i tovaglioli arancioni poi ho preso i piattini neri anche questi riciclabili perché mia madre vorrebbe prendere una torta sempre autunnale comunque da mangiare dopo poi ho preso questi bicchieri e ne ho presi e ne ho presi 2 3 4 e 5 neri e poi ne ho presi 1 2 3 e 4 si rossi arancioni ora ve li faccio vedere questi qua poi mia sorella ha insistito molto per prendere questi che si accendono con le facce delle zucche poi noi abbiamo preso i bicchieri sia neri che arancioni anche perché dovete sapere che a casa mia le cose di vetro durano mezza giornata infatti tipo i piatti si dimezzano in una settimana i bicchieri li abbiamo contati perché si era un po' in continuazione quindi meglio questi anche perché appunto non li avevamo per tutti poi abbiamo preso questi volevamo prenderli per tutti ma erano finiti ce ne sono solo 1 2 3 4 5 6 e pensiamo di usarli per le patatine magari o per le caramelle insomma ci mettiamo qualcosa dentro i salatini eccetera eccetera ve ne mostro uno questi poi ovviamente rimangono poi abbiamo preso quest'altra tovaglia arancione perché abbiamo due tavoli da allestire diciamo e poi passiamo alle cose da mangiare soltanto che qui ne ho solo due quindi le devo andare a prendere e qui ho queste caramelle e qui c'è scritto caramelle gommose al gusto frutta con tatuaggi attestivi temporanei e poi ho qui i marshmallow con i fantasmi le zucche forse i pipistrelli insomma cose così ora vado a cercare le altre cose e torno ok sono tornata allora abbiamo queste patatine e sono patate al gusto di panna acida mai mangiate e appunto come vedete sono a forma di ragni ragnatele eccetera poi queste patatine che esteticamente sono le stesse ma queste sono al gusto ketchup infatti sono un po' più rosse poi questi che io ho mangiati l'anno scorso sono fantastici che sono dei biscotti con dietro il cioccolato e anche questi sono a forma di zucca e di fantasma di pipistrello eccetera eccetera sono un po' buoni questi vi giuro questi occhi zucchi eccetera al cioccolato e al cioccolato al latte sì e questi penso di metterli o nella bara o nei bicchieri e per ultimo questi pipistrelli vampiri con le ali che sono cioccolato anche questi vediamo se c'è scritto qualcosa aspettate no niente cioccolato al latte e niente ragazzi questo è tutto quello che ho comprato per la festa io spero che ci divertiremo comunque che verrà una cosa carina e fatemi sapere se voi farete qualcosa per Halloween e appunto non so se l'ho detto ma la faremo il 31 e che abbiamo mezzanotte sarà l'anniversario con il mio ragazzo però vabbè cioè saremo insieme lo stesso e niente appunto fatemi sapere se voi farete qualcosa e io spero di avervi aiutato di avervi dato anche uno spunto e per la serata comunque pensiamo di fare film e giochi da tavolo e portata principale diciamo rastiggeria e pizza vedremo benissimo ragazzi io spero di avervi rilassato o comunque tenuto compagnia vi ricordo che per supportarmi potete lasciare un mi piace un commento e iscrivervi al canale oppure a supportarmi con i super grazie o un regalo dalla wishlist di Amazon detto questo noi ci vediamo venerdì con un prossimo video buonanotte